Venerdì sera alla Sala Espositiva del Levare, secondo appuntamento di Tralevare in Preghiera, evento organizzato dall'Associazione Giovedì Santo. Dopo la Via Crucis, presieduta dai parroci di Santa Maria Lanova, San Giuseppe Provvidenza, Santa Croce e San Domenico, Corrado Sillitti si è esibito in Caltanissetta 1903, dove sulle parole di Michele Alesso ha suonato il pianoforte e la fisarmonica. Ho accettato con piacere l'invito da parte dell'Associazione Giovedì Santo di Caltanissetta di essere presente questa sera con la mia musica, in una cornice veramente incandevole, quella del Levare, il simbolo di Caltanissetta per eccellenza. Tra l'altro un'occasione speciale oggi perché ricorrono i 120 anni da quando Michele Alesso ha scritto il suo libro sul Giovedì Santo di Caltanissetta. Una bellissima iniziativa questa che ha avuto quest'anno l'Associazione Giovedì Santo, quella di creare delle manifestazioni che possano prepararci al meglio alla Settimana Santa di Caltanissetta. Siamo già giunti al secondo appuntamento di questo piccolo festival e sono stato molto felice quando il presidente Gian Musso, nonché il mio caro amico Francesco Miceli che ha curato un po' la direzione artistica degli spettacoli, mi ha chiesto di partecipare anche io a una di queste serate.